buongiorno a tutti sono matteo losio della trattoria del bruciaboschi sono qui a rappresentare il marchio genova liguria gourmet presentiamo il piatto principe della cucina ligure il capo magro questo è uno dei piatti più blasonati da tantissimi anni si può fare in varie versioni ovviamente in passato era più consono servirlo in gelatina dentro uno stampo perché spesso si serviva freddo con la preparazione appunto che richiede un sacco di tempo in questa maniera invece lo facciamo diciamo aperto al piatto lo montiamo sul momento qui abbiamo tutta la carrellata degli ingredienti posso farvi un elenco un finito di verdure e di pesci che possono variare a secondo della stagione ea secondo di quello che si trova sul mercato quindi non è detto che se oggi abbiamo i broccoli domani non abbiamo i carciofi domani abbiamo le carote magari abbiamo le mazzancolle al posto degli scampi quindi questo non importa l'importante che ci sia un connubio e un equilibrio nei sapori quindi le verdure tutte cotte lessate o a vapore e raffreddate i pesci ugualmente tutto condito in maniera molto delicata e poi accompagnato dalla famosa e mitica salsa verde che in questa versione deve essere saporita sicuramente ma non troppo aggressiva per coprire tutti gli elementi e adesso cominciamo con l'impiattamento del tutto avviva il capo magro è finito come potete vedere siamo riusciti a montarlo in questa maniera non è per niente l'unica maniera in cui si può fare anzi se vi sbizzarite a montarlo in altre maniere ben venga questo è molto conviviale in quanto si può girare e un domani speriamo di essere tutti intorno a un tavolo e poterlo degustare tutti insieme tutti qua in giro a assaggiare tutto e farsi descrivere gli ingredienti di questo magnifico piatto ecco a voi il capo magro